bella ragazzi sono ben wolf e siamo tornati con fifa 18 questa volta nel nostro fifa football club vorremmo sfidare la squadra della settimana e direi di iniziare la sfida e di scoprire semplicemente chi ci sarà direttamente da dentro il gioco la facciamo ad esperto dai non ci vogliamo impegnare più di tanto sinceramente non ci vogliamo impegnare più di tanto vediamo un po come la va con una maglietta diversa ecco così va molto meglio ragazzi io prevedo delle botte pazzesche pazzesche però 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 non vedo perché non provarci dico bene ok andiamo subito a giocarcela allora ragazzi già vedo hurricane mettiamo offensiva perché ci piace farci del male ma giusto per quello non per altri motivi non perché siamo gente offensiva ma per nulla non riusciamo se dove neanche a prendere il pallone guardate riusciamo a coprire bene le linee di passaggio perché hanno superato il centrocampo solo adesso e queste bene ma c'è un fallo dove scusi signor abito lei dove diavolo ha visto mamma mia il fallo perché secondo me non c'era quanti ce ne sono intorno facciamo correre il compagno dai che l'abbiamo visto ma ci ha visto pure lui ci ha visto pure lui due o peccato io potevamo anticipare qua è attenzione ci liberiamo bene possiamo addirittura attirare incredibile bisoli alla prima occasione al diciassettesimo ci porta in vantaggio mamma mia non pensavo ragazzi sapete non pensavo proprio al primo tiro 1 a 0 attenzione penetemi in aria non ci danno spazio per tirare mai nella vita purtroppo siamo costretti con sterling a retrocedere un attimo gli arriviamo sterling e non gli arriva però attenzione lo vediamo tiravo mamma mia che parata però calcio d'angolo su calcio d'angolo chiamando l'uomo di solito siamo pericolosi vediamo se accade lo stesso è penetrami in aria ci vediamo per il tiro mamma mia strizzolo il nano cattivo colpisce ancora dieci minuti dopo a ventisesimo e 2 a 0 attenzione che ne velocissimo attenzione pericolo pericolo ma attenzione che il quarantesimo li porta su 2 a 1 è un casino ragazzi basso la mia distrazione ed avendo gli uomini completamente superiore ai nostri e ci mancherebbe anche non sarebbe la squadra della settimana altrimenti basta un nulla per venire recuperati attenzione nei mar nei mar recuperato benissimo da un fantastico bisoli da un fantastico bisoli che riesce a darla dietro bene che riesce a darla dietro bene qui stiamo facendo una ragnatela di passaggi vediamo se riusciamo a liberare qualcuno per il tiro e penetriamo con spinazzola ma purtroppo finisce subito inizio la ripresa e io ne approfitto per salutare giovanni meloni un mio fan che mi segue sempre lo ringrazio per questo mi ha chiesto di salutarlo e mi sembra giusto dedicargli un saluto a inizio della ripresa speriamo che questo saluto ci porti bene ci porti un po di fortuna e magari anche un gol ottimo baseri ottimo davvero sterling dai che si è girato bene ottimo e ma sono troppi ragazzi sono troppi e sono piazzati benissimo dai che lo vede no non riusciamo a tirare peccato verdi verdi è partito verdi anche lui non è niente male come velocità però non possiamo far di più si addormente un attimo strizzolo è un nano cattivo gliel'ha portata via subito non possiamo far di meglio dagliel'ha dietro vai strizzolo niente da fare non ci riusciamo a dibiare bene per fare un tiro pulito e ottimo tirapiii sono i palo anche oggi abbiamo preso il nostro palo quotidiano che sfortuna però ragazzi e mamma mia ronaldo ronaldo pericolo tantissimo un pericolo grandissimo qui con andrioli riusciamo a sgusciare via lo vediamo e non riusciamo a fare altro purtroppo con berardi cerchiamo di dargli fastidio ma mia che brutto tiro che brutto tiro che abbiamo fatto strizzolo strizzo lo vede tiramisoli mamma mia ragazzi che si duro al sessantottesimo andiamo sul 3 a 1 grazie a bisoli bello il suggerimento di strizzolo attenzione baseri baseri ci provano fuori mamma mia la para la pala era un bel tiro devo dire però abbiamo un calcio d'angolo e quindi la possibilità di digli che non è ancora finita la vediamo qua rientriamo lo vediamo benissimo lo vediamo ma gliela diamo male lo vediamo ma gliela diamo male che peccato però il contropiede non si concretizza e questo è bene ormai siamo l'ottantasettesimo ragazzi non dovrebbe poterci mettere in difficoltà più di tanto lo vediamo ma lui la piona benissimo purtroppo costelling non riusciamo a ridagliela subito ed era fondamentale ridagliela subito lo vediamo verdi non l'abbiamo piazzata che peccato per uno nudo l'abbiamo piazzata però baselli c'è baselli c'è baselli non c'è è un mago prima c'è poi sparisce ad ogni modo direi che questa partita è andata abbastanza bene io spero che questo video vi sia piaciuto ho voluto fare la sfida alla squadra della settimana perché era un po che non la facevo e avevo voglia di guadagnare qualche credito nulla di particolarmente impegnativo vi scuso per la voce per eventuali colpi di tosse ma ragazzi sono un po raffreddato ambiate pazienza ovviamente con 9.3 bisoli è l'uomo della partita e noi ci portiamo a casa quasi mille crediti tanta tanta roba ragazzi ogni tanto ricordiamoci di fare queste sfide perché guadagniamo begli spicci io spero che questo video vi sia piaciuto se così lasciate un like commentate condividete ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno grazie e alla prossima ciao